Il primo capitolo, Planetario. Il primo capitolo, Planetario, è dedicato allo spazio ed esplora il mondo delle stelle. Oggi i The Producers tornano con Botanica, continuando a mettere in relazione musica e scienza per raccontare le meraviglie del mondo vegetale. Con la collaborazione di uno dei più importanti ricercatori botanici internazionali, il professor Stefano Mancuso, tra le massime autorità mondiali nel campo della neurobiologia vegetale, a cui è stata affidata la narrazione scientifica. Negli Stati Uniti c'è una foresta che è costituita da un unico organismo clonare, c'è un unico organismo che si è riprodotto sempre lo stesso, è sempre lì, sapete da quanto? Da 45.000 anni. Il progetto è stato ideato e prodotto in collaborazione con Aboka, che da sempre trae dalle piante medicinali soluzioni avanzate per la salute dell'uomo. Lo spettacolo Botanica mescola musica e narrazione scientifica. Il professor Mancuso racconta alcuni degli aspetti più interessanti, profondi e sconosciuti della botanica. I The Producers con la musica contrappuntano queste narrazioni, coadiuvati da una scenografia costruita ad hoc e da videoproiezioni che spiegano in maniera razionale, ma anche emotiva, il tema di cui si sta trattando. Chi assiste allo spettacolo Botanica si emoziona ascoltando un concerto e dalla fine guarderà le piante con un altro sguardo. Grazie a tutti.